La tradizione contadina che si incontra di nuovo con la modernità dei nostri giorni, i sapori del passato e gli antichi mestieri che rivivono tra le viuzze di un paese che sembra incantato e rimasto indietro nel tempo. Siamo a Colle San Vito, frazione del popoloso comune di Tornimparte, a pochi passi dall'Aquila. Ogni anno, negli ultimi giorni di luglio, l'associazione culturale Rocca San Vito organizza la festa della trebbiatura, giunta alla sua undicesima edizione. Un percorso tra i sapori del paese, con la degustazione di prodotti tipici della cucina locale, preparati a mano dalle donne del posto, il percorso degli antichi mestieri con gli artigiani in azione tra gli archi e le vie del borgo. E regina ogni anno della festa, la vecchia trebbia dei primi anni del Novecento, azionata dai paesani in abiti tradizionali, a rievocare l'antica trebbiatura, che all'epoca era una vera e propria festa. Accanto a tanti eventi collaterali, una tre giorni ricca di tradizione e cultura, un borgo che diventa meta anche di tanti turisti, in estate un'associazione viva che mantiene le tradizioni di un tempo, anzi le tramanda ai più giovani.